Il progetto di salire tutti gli 82-4.000 Alpi era quel classico sogno che non farei mai. L'idea di salire tutte queste cime cercando anche di scegliere quelle che erano le linee più leganti per arrivare in cima. Le vie del cielo, le creste che ci hanno sempre fatto sognare e che volevamo salire. Un vento veramente, veramente forte. Sembrava che volesse strapparci dalla montagna. Ai, ai, ai. È passato tutto davanti agli occhi, tutto nero e in quel momento ho pensato è andato. È un'impresa totalizzante quella che si fa sui 4.000. Un ritorno alle origini dell'alpinismo. Proventura dopo avventura si è formato un bel legame. Ad oggi io e Nicola siamo i miei fratelli. Gli emozioni sono talmente tante, le lacrime scorgavano.